modo di andare in scena ed è qualcosa di veramente eccezionale se si pensa e qui è l'orgoglio del Presidente regionale di una federazione come la FIDA di cui io ho il modo di essere il vertice della Sicilia dove la base principale è la passione perché noi, come dice il nostro agronomo, siamo una federazione italiana che fa questo, aperte virgolette, lavoro, chiuso virgolette, supportati solo ed esclusivamente dalla passione e il nostro rendiconto economico non è altro che l'applauso del pubblico. Nella parte dice grazie, per oggi sono parzialmente pagato, per oggi sono parzialmente pagato ma soddisfatto sicuramente. Questo progetto mette in essere il giorno 4, giorno 5 alle 18, giorno 4, giorno 6 alle 21, giorno 5 alle 18 alle 18 alle 18, mette in movimento ben 50 persone. quindi anche